Sieropac Italia Abbiamo fatto del settore ricerca e sviluppo il nostro punto di forza, depositando negli anni diversi brevetti, tutti caratterizzati da una forte propensione all'ecosostenibilità. L'azienda, la cui età media è inferiore ai 30 anni, è sempre stata attenta alla formazione e alla sicurezza, mantenendo nel corso degli anni l'obiettivo di zero infortuni. Nel sociale sosteniamo vari progetti nel nostro territorio, sportivi, assistenziali e sanitari. Inoltre, per il benessere dei nostri dipendenti, abbiamo istituito il bonus bebè, il bonus sicurezza e il bonus famiglia. Un occhio di riguardo è dedicato ai percorsi di alternanza scuola-lavoro. Inoltre, con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Bologna, abbiamo avviato il progetto Taylor, che non è destinato solo alla Sieropac Italia, ma all'intero territorio. Taylor è un laboratorio di ricerca e formazione, dedicato agli studenti e destinato alle imprese, nel quale convergono le esigenze aziendali e i talenti di giovani studiosi. Taylor mette a sistema competenze tra loro complementari nell'approccio alla ricerca e allo sviluppo, e individua soluzioni su misura per la piccola e media impresa del territorio, caratterizzata da esigenze specifiche di innovazioni sia sul prodotto che sulla produzione. Ad oggi partecipano due dottorandi e tre docenti dell'Università di Bologna. Contiamo in futuro di rendere il progetto economicamente sostenibile, grazie al contributo innovativo di giovani ricercatori e alla formazione di centinaia di studenti. Siamo convinti che una gestione virtuosa e responsabile debba valorizzare i nostri giovani, vera chiave del successo della nostra azienda. Grazie a tutti.